E buon pomeriggio a tutti raga, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ormai non so più quando Cristo escono se sfide estate cosmica Perché io metto la sveglia apposta per vedere le sfide e escono prima Non lo so, io vabbè, in ogni caso ragazzi Andiamo a vedere quest'oggi le sfide estate cosmica le ultime ragazzi Cioè quelle appunto di distruggere strutture in the pit Elimina giocatori con 5 tipi diversi di arma in una partita sigla In the pit e ottieni colpi alla testa in the pit In questo caso sblocchiamo un'altra variante del dataplano Un piccone e un'altra variante del ghiacciolone ragazzi E anche un emot se non vado errato Andiamo dunque nella modalità the pit che in questo caso io non ho ancora disponibile E dunque vado su creativa, vado poi su scoperta E poi metto il codice ragazzi Quindi metto codice isola e metto 459044937113 Ed ecco che esce appunto la modalità the pit Probabilmente quando sto registrando ancora questo video Anche se in realtà sono usciti già da un bel po' di ore barra minuti Queste sfide non è ancora disponibile la modalità Quindi nel caso voi state guardando questo video Quando ancora non è disponibile questa modalità Il codice è appunto questo qua Ve lo lascio in descrizione, nei commenti, insomma da tutte le parti 459044937113 Dunque ragazzi andiamo a lanciare la modalità the pit E andiamo a fare queste sfide belle, bislacozze Comunque se invece state guardando il video quando è già uscita la modalità La troverete appunto nelle varie modalità Appunto basterà cliccarla per poi entrare direttamente nella modalità the pit Quindi signori un bel ai cozzo codificatore luce Andiamo a vedere un pochino come fare questi incarichi Ecco qua che come potete vedere siamo dentro la mappa Stavolta è una 12 giocatori Quindi non più 16 o 15 non mi ricordo più Come le altre volte In questo caso ragazzi qui dovremmo scegliere appunto No, non credo dobbiamo scendere Forse sì, doveva scendere, sì Doveva scendere Ok mi sono lanciato in una maniera incredibile Dunque raga in questo caso la primissima missione ci richiede Esattamente di distruggere le costruzioni altrui Ma soprattutto anche di costruire le costruzioni Dunque raga partiamo da quelle più semplici Che ci richiedono appunto di costruire strutture E un'altra che invece ci richiede di distruggere le strutture Dunque raga io vi consiglio di fare bello alto Sì intanto date tranquilli Ci sarà sempre ovviamente qualcuno che spacca Però va bene comunque Voi continuate a costruire come se non ci fossero domani E ogni tanto iniziate anche a spaccare le altre strutture Quindi fate un po' così come sto facendo io Magari prendete appunto la Milligan Che è meglio di una Tomigan Effettivamente sono anche io un po' birla Che prende la Tomigan invece che la Milligan E muore il godo Ok e intanto facciamo anche la missione di animare i giocatori Tac E come potete vedere intanto le missioni salgono Perché abbiamo fatto appunto quella di costruire le strutture Abbiamo fatto Ancora non ci ha dato quella che abbiamo spaccato le strutture Ma sicuramente tra poco ce la darà anche quella Io vi consiglio appunto di fare se ne siete capaci Non che io lo sia capace eh Però più o meno lo so Di fare appunto così scalaburo doppia tripla Perché è più difficile che gli altri ve la buttino giù Magari in metallo sarebbe ancora meglio buildare E in ogni caso appunto costruite più cose possibili In un lasso di tempo praticamente brevissimo Perché fare scalaburo doppia è veramente difficile Però è veramente utile per la missione appunto di costruire le strutture Dunque guardate quanto siamo arrivati praticamente al fine mappa E guardate abbiamo costruito Guardate quanto Guardate quanto Cristo abbiamo costruito E difatti costruisce le strutture di The Pit O se non siete capaci fate il 90 gradi Oppure se ancora non siete capaci fate una scalaburo normale Insomma costruite più che potete in ogni caso Mentre per spaccare le strutture appunto io vi consiglio di fare così Tac L'ho arrivato a spaccare Cercate di non buttare giù tutto subito Perché altrimenti spaccate meno strutture Dunque fate tipo così Spaccate magari esatto il centro diciamo di tutto questa roba qua Ok perfetto Come potete vedere con il pompa E perfetto Bello killato Ah tra l'altro tiene i colpi alla testa è l'altra missione Quindi se ne riuscite a fare handshot anche meglio Come ho fatto io Adatti praticamente tirate sopra E tirate sopra Questo qui mi sembra abbastanza scarsino Quindi dobbiamo di killarlo subito Perfetto E come potete vedere abbiamo killato con la M4 Ecco magari se siete riusciti a baccare quelli più scarsi Da così fargli gli handshot è anche meglio Ecco come potete vedere infatti La missione la conta Ok ragazzi Come potete vedere abbiamo fatto Quindi tanta tanta roba Dunque la missione l'ho completata così Con queste 5 armi Perché io ho completato la missione così Utilizzando assalto M4 Questo pompa spaz La metralietta blu Le pistole doppie viola E la metraliatrice Appunto viola E cioè epica Quindi ragazzi Queste erano le missioni Comunque guardate qua quanta roba ci ha dato Perché appunto abbiamo fatto Ripeto questa missione qui Di utilizzare le armi diverse Usando M4 Quelle armi che vi ho fatto vedere prima Quindi abbiamo sbloccato Mersh, magli Molto carino La copertura in ghiacciolo E eccolo qua Il ghiaccioloso ragazzi Veramente bellissimo Un bacione grandissimo ragazzi Ci vediamo oggi alle ore 16 Con i video degli incarichi epici Settimana numero 4 Quindi signori vi aspetto Codicicatore Lucius Bella ragazzoni Ciao 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 Ciao